scusate l'interruzione ma la linea è bassa adesso vi faccio vedere questa è di carabellini che tornano sempre alle scorse di prima che vanno a non 110 di vedere da solo 130 manca un arrivo 140 ecco ora cominciamo a vedere adesso vi faccio vedere dove stanno le guardie perché no ma in cazzo ma in cazzo bene bene l lassù stanno sul cavalca via l dove la vedi la macchinetta come fa essi visibile la macchinetta ecco lo sanno messi ma secondo voi gli altri no scusate è visibile questa posizione è ben visibile è ben visibile no è ben visibile guardi il cartello e beh dove è il cartello dove si vede il cartello è stata fa la muta dalla gente che va a lavorare è la terza volta la terza volta che vi c'è picco adesso andate tutti in tribunale ok tutti in tribunale tutti in tribunale adesso andiamo tutti in tribunale interruzione di che? di pubblico esercizio ma di pubblico esercizio ma questi vanno a lavorare a portarsi la pagnotta ma che vi mettete a fare la muta dalla gente? ma ce l'avete la coscienza? ce l'avete la famiglia? ma voi gli altri? la famiglia ce l'avete la famiglia? e basta le mani giù le mani ma ci sono stati? ma che stati? ma questa è già rubata le famiglie ma guardate dove si sono messi ma guardate dove si sono messi guardate deve essere visibile la macchinetta guardate 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 ho già parlato con il signaco ma come si fa? ma vi dovreste vergognare? ma vi dovreste vergognare con gli altri? vergognare? che non è lei no lei si vede queste vergognare e basta tanto ve l'ho detto tanto ve l'ho detto ho avvisato adesso ci vediamo un tribunale